Ciao bambini della prima, benvenuti a questa lezione online della maestra Annalisa. Oggi parleremo degli school objects, gli oggetti di scuola. Andiamo subito a scoprire come si chiamano. Cominciamo da uno facile facile. What is it? Ve lo ricordate? Esatto, it's a pen. Well done. Ok, adesso andiamo a vedere qualcosa che somiglia molto a pen. Si dice quasi nello stesso modo. Lo sto indicando con la mia freccina, con la mia yellow arrow. What is it? Yes, it's a pencil. Ok, adesso voglio chiedervi come si dice questo. Chi lo ha riconosciuto? Ok, good. It's a ruler. E si scrive proprio così. Adesso passo a questo oggetto. Faccio un lungo salto e andiamo a vedere come si dice questo. Tre lettere soltanto. Esatto, it's a bag. Ok, andiamo ancora avanti. What is it? Vi do un piccolo aiutino. Comincia con la r. E adesso passiamo avanti e vediamo questo oggetto. Chi di voi l'ha riconosciuto? Pensiamoci un po'. Voglio darvi un aiutino. Una b. Esatto, perfetto. Ok, andiamo avanti e scopriamo l'ultimo oggetto. Questo è un nome un po' difficile. Vediamo chi è super bravo. Vediamo, vediamo. Un aiutino. S. Ok, scissors. Ok, benissimo. Adesso che li abbiamo scoperti tutti, ripetiamoli insieme. Io prima dirò la parola e voi ripeterete dopo di me. Pen. Pencil Ruler Book Rubber Bag Scissors Ok, allora, adesso che li abbiamo ripetuti, andiamo a fare insieme questo esercizio. Read Leggi Count Conta Circle Cerchia And color Colora Ok, facciamo una cosa alla volta. Innanzitutto, leggiamo. Six Blue Pants Ok, chi mi sa dire cos'è six? Esatto, è un numero. Contiamo con le dita fino a six. One Two Three Four Five Six Quante dita avete alzato? Sei dita. Perfetto, ne abbiamo sollevate proprio sei. A questo punto possiamo fare il circle. Possiamo passare alla fase del circle. Quindi vado a prendere il circle, quindi vado a prendere la mia pencil e farò un cerchio, un circle che contiene in tutto six pens. E finalmente posso chiudere il circle, quindi vado a prendere la mia pencil e farò un cerchio. E finalmente posso chiudere il mio cerchio. E' facile, è facile, è proprio il blu, solo che si scrive blu. Allora, andiamo a colorare di blu le six pens che abbiamo evidenziato. Ho cerchiato insieme. One Two Three Four Five And six Adesso la maestra le sta colorando un po' male, ma le vostre dovranno essere colorate perfettamente. Allora, chi mi sa dire quante penne sono rimaste fuori dal circle? How many pens are out, out of the circle? Let's count. Yes Two pens Quindi le penne che sono rimaste fuori sono in tutto two. Ma passiamo al prossimo esercizio. Qui abbiamo Four Four Bro Thin C C C Source Che strane parole! Proviamo innanzitutto a vedere cosa sarà questo F O Ur Four Beh, è un numero esatto, è proprio un numero. Ma che numero sarà? Proviamo a contare finché non troviamo una parolina che somiglia a questo misterioso four Proviamoci Siete pronti? Via! One Quante scissors Quante scissors dovremo cerchiare? Proprio quattro, esatto! Allora, prendo la mia pencil e vado a fare un cerchio intorno a four scissors. One Two Three And four E quindi posso chiudere il mio cerchio. Perfetto! Ok, adesso concentriamoci su questa nuova parolina B R O V N Brovn Chissà chi sarà. Andiamo a interrogare le nostre macchioline di colore. Tenete a mente questo Brovn. Questa come si dice? Red Somiglia Brovn? No Sarà Purple? No Sarà Orange? No Sarà Yellow? No Sarà Brown? Mmh Credo proprio che Brown sia questo misterioso Brovn. Mmh Che ne dite? Esatto! Brovn è proprio come si scrive il colore Brown. Allora andiamo a prendere il Brown e facciamo un segnetto su ogni una delle scissors che abbiamo cerchiato. Ok, one, two, three, and four. Quante scissors, how many scissors non sono Brown? Giusto! One, solo una, è rimasta fuori dall'insieme. Ok, bambini. Allora, fate più o meno in questo modo quello che vi ho assegnato nella scheda per casa. E se ci sono dei dubbi o non vi ricordate come fare, potete sempre guardare questo video che potrà esservi di aiuto. Spero di essere stata chiara e ci vediamo alla prossima lezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti